ciao sono eleonora mamma formatrice di giovani e coach e con questo video voglio presentarti il lol camp 2021 l'unica esperienza formativa per i nuovi adolescenti di oggi che si svolgerà la prima settimana di settembre in toscana un'esperienza studiata per ripartire carichi consapevoli e motivati per affrontare il nuovo anno scolastico con slancio e forza e per comprendere che la vita il futuro ce lo costruiamo la mia esperienza di oltre 25 anni con i ragazzi mi ha fatto capire e sperimentare quanto percorsi di formazione e di crescita studiati per i giovani possono trasmettere loro strumenti fondamentali per maturare coltivare abilità e sviluppare potenzialità e talenti che cosa sogni per tuo figlio il lol camp è un'occasione unica per consegnare ai nuovi adolescenti di oggi le cinque chiavi della svolta tutto questo attraverso un percorso dove compagnia crescita condivisione coraggio connessione saranno proprio le chiavi da portare via insieme allo sviluppo di due abilità fondamentali la comunicazione quella efficace empatica in grado di costruire tutti i rapporti e le relazioni e la mentalità cioè un assetto mentale orientato alla crescita quel tipo di mentalità che ti consente di affrontare la vita in modo diverso in ogni situazione vivere esperienze importanti e ben strutturate attraverso un metodo consente di installare proprio questi programmi dentro ad un ragazzo affinché diventi consapevole e responsabile artefice del proprio destino il lol camp è l'unico camp formativo per i nuovi adolescenti di oggi un percorso di evoluzione e crescita per chi vuole donare ad un figlio strumenti essenziali per la vita appresi attraverso il gioco e il divertimento per portare ogni ragazzo a comprendere il proprio potenziale la propria fantastica unicità e l'utilizzo di queste cinque chiavi un percorso affinché tuo figlio capisca davvero che tipo di persona vuole diventare quale regalo più grande puoi fare a tuo figlio se non quello di investire per la sua felicità clicca qua sotto per scoprire tutte le info su questo percorso e se vuoi per contattarmi e aspetto ciao grazie a tutti